Allora Valerio, punto, ma che tu fa parte del progetto? Sì, no, io sono Nicola, mi sto occupando di promuovere l'idea, no? Siamo in collaborazione. Esatto, esatto, esatto. Dai, spiegami due parole che cos'è. Stai di qui accanto, ma andiamo tutti in diretta a streaming, mentre lo fanno. Ma Nicola, vuoi spiegare tu di noi? Questo va in diretta a streaming. Lascio un messaggio. Il messaggio è proprio qui. Hai ben visto. Abbiamo anche Mirko Lalli, che non sono riuscito a intervistarlo. Ma arriverò. Allora no, io ti percorro e ti intervisto in diretta. Ma col cellulare? Questo va in diretta. Siamo su Quick. Esatto. Yesi, Mirko, è il prossimo della creatività 2009. Stanno cercando. Stanno cercando. A dopo. Ciao. Quattro. Tre. Valerio, stiamo in diretta a live streaming, YouTube, Facebook, Twitter, trend feed. Venite, venite al festival della creatività, ragazzi. Qui c'è il massimo della condivisione. Ma con questi occhialini si vede bellissimo. Ah, per secondi. Ah, no, per secondi. Ah, sicuramente, Valerio, ecco, in tempo reale, c'è il sito web, se dice sui social network, in tempo reale. Poi ti arriva l'e-mail anche, ti arriva sulla tua e-mail, per cui lo puoi lì valsare di nuovo dove fai tu. Allora voi dovete già pensare come investire questi soldi, guardate, direte. Certo, adesso stiamo spazzo alle signorine. Però la cosa interessante è che loro hanno collegato tutti questi social network con il festival della creatività. Capisci? Ah, cioè voi prendete l'indirizzo e-mail. No, praticamente... Io ti ho fatto un video e ti ho fatto un fotografia. In tempo reale la tua persona è posta elettronica, tra un po' ti arriverà un'e-mail e un allegato a tutto il materiale multimediale che ti ho messo. E che con un click, siccome l'e-mail è formattato in HTML, hai possibilità di condividerlo con un click sui social network che sei sottoscritto. No, 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 in tempo reale vanno sui social network di questi qua. Perchè l'organizzazione mi ha fornito di tutte le account di accesso e quindi io vado straight away proprio dentro il... Grazie.